Assessorato alla mobilità e al lavoro per il piano parcheggi, il centro resta la situazione con maggiore criticità, ma assessori e tecnici sono al lavoro per studiare tutte le soluzioni. Innanzitutto per venire incontro ai commercianti sono spuntati i dischi orari, ma i controlli inizieranno da metà giugno con grande capillarità. Abbiamo preso questa decisione proprio perché c'è la ricostruzione in atto che interessa prevalentemente il centro storico e quindi abbiamo deciso di istituire dei parcheggi orari proprio in prossimità delle attività commerciali per consentire il ricambio e quindi creare meno disagio ai commercianti che già hanno avuto il coraggio di riaprire queste attività in centro storico e stiamo cercando di agevolarli il più possibile. Va chiarito che chi ha il permesso non può rimanere comunque lì ad esempio tutta la giornata e il disco orario va rispettato un'ora, un'ora deve essere. Sì, il disco orario va rispettato da tutti e quindi il parcheggio orario garantisce il ricambio perché altrimenti chi ha il parcheggio e poi rimane in sosta per svariate ore va contro quella che è la finalità proprio dell'istituzione del parcheggio orario che comunque cessa alle 20. Quindi per esempio i residenti, perché anche qualche residente ha chiesto informazioni, dopo le 20 può, anzi, addirittura dalle 19 può parcheggiare e poi ovviamente portare via la macchina il giorno dopo quando riscatta alle 8 il limite del disco orario. Intanto, mentre chiudono i cantieri, si studiano altre zone per alleviare i disagi e permettere ai fruttori del centro di poter parcheggiare tranquillamente. Intanto, resta in piedi tutto il discorso con l'MP Parcheggi, che gestisce il terminal di Colle Maggio, sarà ripristinato il taperulan, così vuole l'amministrazione e si cercherà di risolvere a breve giro la questione con l'azienda dei fratelli Santilli, perché il magaparcheggio sarà centrale nel futuro della città nell'ottica della pedonalizzazione, questa è l'idea del comune targato biondi. L'amministrazione porterà avanti anche il vecchio progetto del parcheggio interrato a San Bernardino, come è noto. Il tapirulano è importantissimo, il megaparcheggio è importantissimo, sono più di 700 posti a disposizione di tutti coloro che vogliono recarsi nel centro storico, anche di chi deve andare a lavorare nel centro storico. Quindi noi riteniamo questo megaparcheggio strategico e stiamo chiedendo anche l'applicazione di tariffe sociali per venire incontro alle esigenze dei residenti. Grazie.